Lascia un like, iscriviti, e attiva la campanella, per rimanere aggiornato. Vanda Nara e Mauro Icardi volano a Istanbul, in Turchia. Tornano in Europa dall'Argentina col costosissimo jet privato extra-lusso. Con la coppia ci sono le due figlie della coppia, Francesca, 8 anni e mezzo, e Isabella, 7 anni e 9 mesi. La showgirl 36enne e il calciatore trentenne si concedono ancora una volta un superviaggio. Mancano all'appello i tre figli maschi che Vanda ha avuto dal suo primo consorte, Maxi Lopez, Valentino Gaston, 14 anni e mezzo, Constantino, 13 il 18 dicembre prossimo, e Benedicto, 11 e 5 mesi, è probabile stiano col papà. Maurito sorride insieme alla showgirl. Con loro c'è anche il cagnolino, Gala, rinchiuso nel trasportino firmato Louis Vuitton. Icardi la prossima stagione giocherà con la maglia del Galatasaraye. Vanda, con cui la crisi pare definitivamente alle spalle, starà con lui in Turchia. Si sposterà spesso, facendo la spola con l'Argentina, per seguire i suoi progetti di lavoro, sia in TV, sia quelli imprenditoriali. L'ex opinionista del GF VIP fa sapere via social di stare bene. Smentisce a gran voce i rumor sulla sua presunta leucemia. Un conduttore argentino ha annunciato che Vanda si dovrebbe curare a Milano, da cui la scelta della famiglia di stare a Istanbul, lontana solo due ore di volo dal capoluogo Lombardo. Ma lei non ci sta. È tutto falso, replica perentoria. Non mi curerò in nessun paese. Accompagno Mauro. Sono state dette molte bugie. Parlano e assicurano cose che non sono vere, senza sapere che parlano della vita di un altro.